musica 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 hola a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui su minecraft hunger games in compagnia di madzov e lui guarda flash oh oh uè flash un secondo un secondo il tempo proprio di entrare e oh fine esce sotto va bene ragazzi speriamo che questo qui è il mio secondo hunger games che faccio in tutta la mia vita speriamo che sia una cosa diciamo decente cioè dov'è madzov eccolo lì madzov uh c'è un flash vicino madzov ma è morto madzov eccomi eccomi ok ho flash vicino madzov invece ho un gnocca vicino cosa c'hai? ho una gnocca vicino una gnocca va bene comunque io c'ho flash così io salgo sopra di lui e lui vuole in un secondo grande ma dai dai uno oh cazzo io picco flash picco flash picco flash così al random mi trovo sul cazzo dai 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 muori muori non ci riesco a farloci io vado sulla rotta panoramica ho ucciso flash vado sulla rotta panoramica io vado sulla rotta panoramica ok dove sei dove sei sulla rotta panoramica anche io dove sei la rotta panoramica dove sei la rotta panoramica ston andando e dov'è? dove c'è la gru dov'è la gru? una cesta oh mio dio no 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 basta full ferro vabbè vabbè però che pallo ma per chi trovo bauli c'è che vuoti che nessuno c'è mai passato che pallo questo qua full ferro madonna dove sei tu? dove sei? questo non sei tu questo non sei tu questo non stacco adesso no all'inizio ho picchiato subito flash lì davanti a me è subito picchiato non è veloce però no lì si è girato e si deve sapicchiare però cioè voglio ammazzare subito perchè esistono porte qui? che cazzo? oh io non ti trovo sto qua a cliccare il vuoto oh c'è una cesta c'è una cazzo dove cazzo sei? oh una spada eccoci oddio guarda che non riesco nulla quel punto dai grande amato dai 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 devi vincere tu allora test oh spada io avevo una ciaspite di ferro vannaggia è nel mezzo d'ora no puoi comprare non mi ricordo ma qui faccio poi un corso per gli alberi ok vediamo se dove c'è andate vediamo se qua gioca a basket oh si oddio c'è un nome c'è un nome eh si shifta 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 adesso è shifta adesso è shifta zio venite ara dai che cosa hai fatto di che materiale? non lo so ve lo vado a vedere infatti eeeh cos'è? oddio no un altro aaaaaaah chest che c'è? una canata fresca bene li puoi spingi con quella dai spinge si li spingi e li butti via uuu c'è anche il tennis c'è tutto qui c'è anche il tennis uuu una chest una chest dove sei? come sei un cazzo delle chest se vuoi solo tu scappare no zio c'è una chest vieni al campo di tennis oh no che dentro questa casa qua dentro questa casa qua no vieni dove vai c'è niente dentro quella casa gioca c'è una cazzo di chest entra ho preso già io non è vero non è vero dopo guarda la gestazione non c'è vedete entra la macchina entra la macchina è sicuro e infatti e infatti vieni dietro c'è una chest qui vaffanculo ma anche qui ma no allora vai vai una macchina tipo di sud c'è una chest dentro c'è una chest dentro cazzo non c'è c'è no c'è un pull oh occhio occhio tizio 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 vabbè zio è lì dietro no no è lì è lì è lì cenati è bambini è shiftato quel tizio ecco ecco il massacro vabbè ragazzi questo video finisce qui e noi ci vediamo nel prossimo video per te ragazzi ciao ciao